La Intex chiude il suo stabilimento all'Aquila e in 68 ricercatori a breve riceveranno la lettera di licenziamento, tra 30 giorni circa. Ormai non c'è più nulla da fare. I sindacati dicono che impugneranno i licenziamenti, ma comunque non sono serviti nulla ai tavoli di questi anni, perché l'azienda non tornerà indietro, questo è certo. Il settore della ricerca perde così uno stabilimento all'avanguardia e di eccellenza. Il vicepresidente della regione, Giovanni Lolli, per la verità, già qualche tempo fa aveva dichiarato di lavorare a soluzioni alternative che vedrebbero il coinvolgimento di tale Salenia e Telespazio che potrebbero riassorbire le maestranze che negli anni si sono formate adeguatamente. La storia della Intex è lunga, professionalità di eccellenza rilevate dalla Compel nel 2011, che secondo i sindacati non sono state mai valorizzate. La Intex nacque nel 1974 e dallo Stato ha 500 dipendenti con sede centrale a Roma. Nel 2011 rilevò la Technolabs, laboratorio di ricerca e centro di eccellenza. Prima gli esuberi, 13 e poi un lungo calbario, che ora portate a licenziamenti collettivi, ben 68. La motivazione è da ricercare nella crisi del gruppo, anche se nei mesi appena trascorsi si è spesso parlato di un braccio di ferro tra Intex e Regione. L'azienda però ha sempre smentito e rispedito al mittente le accuse di aver fatto pressione alla Regione Abruzzo per poter lavorare. Grazie. Grazie.